parlando dei vizi e le virtù oggi tocca riflettere sul vizio della ira è un vizio particolarmente tenebroso ed è forse il più semplice da individuare da un punto di vista fisico la persona dominata dall'ira difficilmente riesce a nascondere questo impeto lo riconosce alle mosse del suo corpo dall'aggressività nella sua manifestazione più acuta l'ira è un vizio che non lascia tregua se nasce da un'ingiustizia partita o ritenuta tale spesso non si scatena contro i colpi ucchi ma contro il primo malcapitato ci sono